La crisi economica divora il lavoro nella provincia di Taranto. Diminuiscono gli occupati, si prosciugano gli ammortizzatori sociali e aumentano vertiginosamente le procedure di mobilità. È l'istantane impietosa scattata dall'osservatorio provinciale della CGL Ionica. Metalmeccanici ed edili, settori in maggiori difficoltà. Nel primo comparto su 245 aziende, 3.733 sono stati i provvedimenti di cassa. Ma se la passa male è anche il commercio, con 1.305 cassi integrati e le telecomunicazioni. A fine settembre l'Inps ha accolto 12.764 richieste di disoccupazione, 1.953 di mobilità contro le 13.091 di disoccupazione del 2011 e 1.535 di mobilità dell'anno scorso. Allo Stato dell'Arte oggi abbiamo circa 10.000, ma sicuramente di più, lavoratori in cassa integrazione, ordinaria, straordinaria, in deroga. Questo dato è molto pesante, non ha grandi prospettive di modifica nel futuro, ma anzi, se va avanti così, il rischio è che parte di queste casse si tramutino poi in mobilità e licenziamenti. Tant'è che i dati che abbiamo, molto significativi, delle prestazioni che riguardano la mobilità, la disoccupazione, sia quella ordinaria che quella dei requisiti ridotti, ci dici che quest'anno siamo già a un livello superiore a quello di tutto l'anno passato. E il fenomeno è evidentemente proprio questo. Molte crisi stanno risolvendo con la risoluzione dei rapporti di lavoro. Il rilancio degli investimenti è proroga degli ammortizzatori, questa è la formula per il rilancio per la CGL che il 20 ottobre sciopererà a Roma. Quindi Taranto, come l'Italia, ha bisogno di una nuova politica, tanto di una politica industriale, di investimenti nell'industria e anche di investimenti pubblici. Noi riteniamo che intanto vadano rafforzati e riconfermati tutti gli strumenti riguardo agli ammortizzatori sociali. La crisi non è finita. Bisogna continuare a sostenere imprese e lavoratori e il loro reddito. E in realtà avremmo bisogno di una vera e propria politica, di un piano del lavoro. Se pensiamo a quanti giovani e quante donne specialmente sono disoccupate, molte di queste fasce di popolazione hanno anche qualificazione allevata, avremmo bisogno, abbiamo bisogno a livello pubblico e privato, di investimenti che intercettino questa ricchezza.